Ci aspetta una partita molto interessante contro un avversario forte, così ci vuole nostro massimo. Abbiamo lavorato ultimamente benissimo, ragazzi ci sono comportati bene, sono rimasti ancora due giorni per cambiare qualcosina, ma comunque penso che stiamo meglio fisicamente dopo quella pausa di Natale e quella cosa più importante per quella partita a Barcellona, perché Barcelloneta gioca una pallanotto moderna con molto ritmo altissimo, così dobbiamo essere molto attenti su quelle cose. C'erano alcuni giocatori bravissimi in contropiede che sono veloci, comunque anche Spagna che è campione del mondo, c'erano tanti giocatori spagnoli, vuol dire che sono una buona squadra. Come abbiamo giocato anche a Belgrado l'anno scorso, stagione scorsa, dove era una bellissima partita, dicono tanti che era anche più bella partita della stagione scorsa. Mi piace anche come gioca Barcelloneta, perché puttano su tanto ritmo, è bello da vederli, ma comunque ce l'abbiamo anche noi, una nostra qualità e penso che siamo più forti da loro, ma bisogna portare quel gioco anche in acqua e farli vedere che noi siamo più forti, ma Elvis, c'era il mio allenatore quando giocavo allo Ju come ragazzino, è sempre stato bravo, comunque anche lui si è cambiato un po', ha portato qualcosa di diverso sicuro, gli ha dato anche una qualità in un gioco 6 contro 6, cosa mancava l'anno prima.